Don't say me Emanuele Cocco caricato dai compagni un momento Delicatissimo dell'incontro E' uscito appasinato per un infortunio dopo uno scontro con Martinelli è uscito Nicola Gerbice sicuramente il migliore fino a questo punto Ma c'è Ronny Zuzma che fa buona guardia in prima linea Sempre 3 a 2 il punteggio in battuta ora c'è Ronny Zuzma Situazione psicologica davvero difficile Perdere due giocatori sicuramente fra i più positivi Cocco intercetta ma non tiene il pallone in campo Non riesce a fermare l'attacco di Riccardo Gallia Grande prova di Emanuele Cocco che senza paura e con un coraggio da Leone Chiude di seconda intenzione questa palla Storche per Verniaghi Giazzoli E ora si infiamma il Pala George Tre pari Giazzoli 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 Giazzoli